Da Creta ad Unicam è questo il percorso della dottoressa Chiara Curra, giovane ricercatrice dell'Institute of Molecular Biology and Biotechnology di Creta, che si è aggiudicata una borsa di studio da parte dell'European Molecular Biology Organization, prestigiosissima istituzione del settore, una borsa di studio per un progetto sul controllo della malaria ed ha indicato il laboratorio di entomologia molecolare di Unicam, diretto dal professor Guido Favia per svolgere l'attività di ricerca prevista nel progetto. Il mio progetto di ricerca riguarda lo studio delle zanzare infette, che tra l'altro ha vinto questa borsa EMBO, per cui ho la possibilità di lavorare qui a Camerino. Riguarda lo studio delle zanzare infette, sappiamo che le zanzare sono il vettore di trasmissione della malaria e negli ultimi anni ci siamo concentrati proprio sullo studio degli stadi specifici della zanzara in quanto vogliamo riuscire a bloccare la crescita del parassita all'interno del vettore in modo che non sia più in grado di trasmettere il parassita della malaria agli esseri umani durante la puntura della zanzara. Il laboratorio diretto dal professor Guido Favia è uno dei laboratori più importanti e più famosi dal punto di vista della ricerca in campo della malaria. La struttura dell'insettario disponibile presso questa università Unicam è una delle strutture più importanti e quindi era la struttura più appropriata per poter svolgere il mio progetto di ricerca e soprattutto visto che non potevo svolgerlo nel mio laboratorio d'origine in quanto ci mancano proprio le specie di zanzara allevate qui a Unicam. La validità del laboratorio ospitante è uno dei fattori di valutazione per l'assegnazione del finanziamento. Si tratta quindi di un importante riconoscimento per il laboratorio diretto dal professor Favia. L'EMBO è una delle più qualificate organizzazioni scientifiche per quanto riguarda la biologia molecolare. Sicuramente penso di poter dire che è la più qualificata in Europa e quindi una delle più qualificate al mondo. Quindi essere comunque stati coselezionati insieme al progetto della dottoressa Curà è chiaramente una gratificazione molto importante per noi. Ci lega un laboratorio e un'istituzione che è quella dell'Istituto Molecular Biology e Biotecnology Creda che comunque è un'altra istituzione estremamente qualificata e questo sottolinea la voglia che ha la nostra scuola e Unicam in generale di stabilizzare rapporti internazionali con centri altamente qualificati. Personalmente poi ha anche un valore sentimentale perché è l'istituto in cui io tanti anni fa ho fatto un post-dottorato e lì ho lasciato un pezzo di cuore. Quindi siamo molto contenti come laboratorio e credo che posso parlare anche come direttore della scuola.